Buongiorno e bentrovati a questo ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa che inizia come sempre andando a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali poi daremo anche un'occhiata ai titoli nazionali con le vicende del governo in primo piano ma andiamo sul centro edizione di Pescara in apertura il titolo notte dello shopping festa in centro negozi aperti per San Lorenzo Corso Vittorio chiude alle auto Anche qui ritroviamo chiaramente i temi nazionali nel taglio alto di Maio a Salvini sei un giullare il leader leghista ipotizza intese Movimento 5 Stelle PD stizzita la replica del vice premier Grillino gli scenari ipotesi governo di transizione e lo spread in penna a 238 punti base governo che come ormai sapete tutti è praticamente caduto a Pescara con le dichiarazioni di Salvini dal palco di piazza della nave di Cascella di piazza Primo Maggio poi in Abruzzo trema anche la giunta Marsilio prima verifica dopo soli sei mesi richiesta a gran voce proprio dalla Lega nello stesso giorno in cui Salvini ha praticamente fatto cadere l'alleanza giallo-verde c'è stata una conferenza stampa dei vertici regionali del partito che hanno chiesto una verifica sul programma a Marsilio alta tensione dunque fra i vertici della Lega in Abruzzo e il presidente della regione poi nelle cronache dramma a Castiglione trovato il corpo del 46enne caduto dal ponte nel pomeriggio di ieri a Francavilla altro dramma morto a calcetto i medici abbiamo fatto tutto il possibile la vittima è un 15enne di Milano che era in vacanza a Francavilla al mare la famiglia però ha origini abruzzesi dunque una immane tragedia anche questa a Francavilla e poi salta il concerto a Vasto vedete nella fotografia Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti Giovanotti accusa in Abruzzo comanda il partito del no dopo il no del vertice in prefettura ieri nel comitato provinciale per l'ordine pubblico preseduto dal prefetto Barbato c'è stato un lungo post su Facebook del cantante che ha lanciato accuse nei confronti delle istituzioni abruzzesi il caso finisce come leggete anche sul tavolo della procura e della corte dei conti per iniziativa dei carabinieri poi ancora nello sport siamo nell'articolo di spalla sabato 17 di agosto ipotesi Juve a Pescara amichevole all'Adriatico potrebbe essere un diversivo per il mancato concerto di Giovanotti dunque c'è la possibilità che la Juventus giochi l'ultima amichevole precampionato a Pescara sabato 17 di agosto ieri sopra luogo all'Adriatico Cornacchia avviata la macchina organizzativa andiamo a vedere poi il taglio basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Talna quella bellezza imperfetta di Cindy e se chiaramente si parla di Cindy Crawford ex supermodella che ha 53 anni adesso ma è ancora molto molto bella poi andiamo avanti con le edizioni del quotidiano in centro prima pagina di Chieti Lanciano Vasto e qui in apertura troviamo il no al concerto di Giovanotti che accusa i vertici delle istituzioni regionali il cantante infuriato in Abruzzo ha vinto il partito del no ha scritto in un post su Facebook poi andiamo a vedere nelle cronache a Chieti Forza Italia attacca si torni a votare dunque non si trova ancora la quadra in vista dell'ultimo consiglio comunale utile a Chieti quello del 13 di agosto per votare il bilancio è sempre più probabile l'ipotesi che il sindaco di Primio debba abbandonare dunque che arrivi il commissario prefettizio in città per traghettare Chieti alle prossime elezioni poi ritroviamo la notizia di Francavilla al mare morta a calcetto fatto di tutto per rianimarlo ieri si è svolta anche l'autopsia poi a Lanciano via Bergamo inaugurata dopo 5 anni aperta la nuova bretella ora due strade per la 14 è lunga appena 500 metri ma secondo l'amministrazione Pupillo cambierà in meglio l'intero traffico in entrata e in uscita da Lanciano è stata inaugurata ieri la bretella di via Bergamo che con un investimento di 410 mila euro 350 messi dalla regione 60 mila dal comune in realtà dopo 5 anni di gestazione di spalla calcio Amarcord quando il Francavilla sfidò a San Siro Rummenighe e qui vedete la foto dell'allora presidente Emilio Luciani era il 1984 Francavilla che insomma tifosi del Francavilla a cui farà piacere questo Amarcord ma sicuramente il presente non è dei migliori con la ripartenza dalla prima categoria dopo l'era Candeloro che aveva fatto sognare la città andiamo sul centro adesso edizione di Teramo cade dalla moto lotta per la vita il titolo di apertura incidente a Mosciano in gravissime condizioni un 24enne di Roseto poi nelle cronache notte dello shopping si rianima il centro storico del capoluogo e sempre dal capoluogo l'università studia gli insetti da mangiare questo è un grande tema per il cibo del futuro quello degli insetti edibili poi a centro pagina la fotografia la sfilata tra costumi e divertimento albadriatica folla immensa in festa per il 22esimo carnevale estivo che ha invaso fino a tardanotte la riviera con colori musica e divertimento poi ritroviamo il caso di Vastono al concerto parla Giovanotti ha vinto il partito del no nella seconda parte andremo ad ascoltare anche le parole del sindaco Menna che ieri pomeriggio dopo il vertice in prefettura ha tenuto una conferenza stampa a Vasto andiamo a vedere poi il centro nell'edizione aquilana il titolo di apertura baby gang in azione al piano case altre bandi ai raggi X dopo gli arresti per le vessazioni in centro continuiamo con le cronache ad Avezzano Fucino danni al raccolto delle patate e poi a Sulmona l'isola pedonale accende le polemiche nel centro pagina troviamo anche la fotonotizia muore a 30 anni ricercatore del Gran Sasso Institute l'Aquila la tragedia è avvenuta negli Stati Uniti lutto nella comunità scientifica aquilana per la morte di Simone Marcocci primo dottore di ricerca della storia del Gran Sasso Science Institute la scuola di alta formazione ha espresso il proprio cordoglio ai familiari con un messaggio dal 2017 Marcocci viveva negli Stati Uniti lasciamo adesso il centro ci spostiamo sulla prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano il messaggero il titolo che apre il giornale riguarda Chieti Chieti e l'Aquila Biondi e Di Primio sindaci in bilico la politica ad agosto all'Aquila scatta la corsa a Roma in caso di elezioni anticipate tentato anche il primo cittadino a Chieti Forza Italia respinge l'ipotesi di rimpasto poi la verifica in regione la Lega rompe l'amarezza di Marsilio solo aspetti marginali da chiarire il governatore si mostra sereno alla vigilia della verifica con la Lega ma fa filtrare amarezza opposizioni dure che ascolteremo sempre nella seconda parte della nostra rassegna nel servizio che abbiamo dedicato a questo argomento poi ancora Rancitelli blitz nel bivacco dei disperati di scheletri di cemento dei palazzi clerico occupati da una decina di tossicodipendenti a Francavilla malformazione cardiaca fatale per Lorenzo questo emerso dall'autopsia per il caso di Lorenzo Verna 15 anni giovedì sera morto su un campo di calcetto proprio a Francavilla al mare quando era in vacanza con la famiglia a centropagina la rabbia di giovanotti con certo annullato per motivi di sicurezza 8 su 13 i pareri negativi per questo concerto vasto dice addio al jova beach party il cantante accusa però inappellabile il giudizio della commissione provinciale dei pubblici spettacoli ha vinto il partito del no ha scritto l'artista su un lungo post su facebook duro anche il sindaco Francesco Menna a prevalere è stato l'odio contro la città di spalla borghi autentici a Barea la convention del club l'altro turismo la perla del parco nazionale scelta come sede di tre giorni d'eventi a fine agosto nel taglio basso gli appuntamenti musica e cinema a Montesilvano in largo Venezuela la terza rassegna folcloristica città di Montesilvano in cartellone anche il concerto pop rock che fa anche al teatro del mare poi il cinema all'aperto andiamo a vedere nel taglio alto le altre notizie un castello un paese torre dei passeri nel maniera del settecento la casa di Dante libri e opere d'arte in serie C lavori a rilento al Bonolis il teramo e senza campo sportivo e poi in serie B Pescara prima la coppa poi si torna sul mercato la società ha preso una pausa di riflessione per verificare eventuali lacune arbitri le nuove regole varranno anche tra i cadetti occhio alle sanzioni andiamo a vedere anche la prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo apre così motociclista cade e viene investito grave 24enne teramano che ieri mattina si è schiantato alla rotatoria di Mosciano stazione e poi sicurezza movida di Ferragosto più controlli sulla strada ancora 11 navigator per trovare un lavoro a 3.887 teramani col reddito di cittadinanza campi torna la sfida tra i maestri della porchetta Teramo l'assessore di Bonaventura indagato per il botto al ponte stretto e poi il commissario la discarica di Santa Lucia senza problemi consiglio comunale straordinario ad altri per discutere proprio della discarica centropagina Giovanni Beach Parti che dice addio a Vasto salta la tappa niente concerto in Abruzzo a meno di ripensamenti chiaramente non per il 17 di agosto andiamo avanti nel taglio basso troviamo la Balnazione promosse la Val Vibrata e Giulianova e poi il Teramo il presidente Iachini lavora in ritardo allo stadio Teramo rischia di giocare a Rieti la prima in casa queste le prime pagine regionali adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali e chiaramente andiamo a vedere che cosa accade in questa crisi di governo a Ferragosto il Corriere della Sera apre così sfida sulla data delle elezioni lite tra gli ex alleati Salvini il Movimento 5 Stelle tratta col PD Di Maio hai votato con loro sei un giullare idem in aula prima la sfiducia al leader leghista questo per quanto riguarda diciamo il fatto che Salvini sia anche ministro dell'interno e dunque spetti al Viminale organizzare le elezioni balzo intanto dello spread e borse in calo Fitch conferma il rating dell'Italia AAAB con outlook negativo poi andiamo a vedere l'editoriale di Luciano Fontana fine di un'illusione quella della alleanza giallo-verde sondaggi e proiezioni lega piglia tutto prenderebbe secondo i sondaggi 297 deputati da sola e poi il governatore zaia così si farà l'autonomia che al momento è bloccata autonomia differenziata su cui ci sono tante polemiche anche nella nostra regione e poi andiamo nel centropagina Genova la madre il sogno di Mirko ha anche indossato la sua felpa in volo per il figlio morto sotto il ponte Morandi il 14 di agosto ci sarà dunque la commemorazione del primo anniversario di questa immane tragedia che costò la vita 43 persone andiamo sulla Repubblica adesso torniamo sulla crisi di governo voto subito ma c'è chi dice no Salvini vuole accelerare fermerò inciucio contro di me dalla Lega mozione di sfiducia al Premier nasce tra i grillini forse tagli e dem di Renzi il partito anti elezioni zingaretti però non ci sta paura per l'economia lo spread vola 240 afficci conti pubblici peggioreranno così l'agenzia di rating vi ricordo che comunque tutto nelle mani del presidente Mattarella che dovrà decidere come quando sciogliere le camere ed eventualmente indire nuove elezioni il punto le certezze e gli interrogativi nell'articolo di Stefano Folli l'analisi di Sebastiano Messina quella voglia di pieni poteri e quelli che ha chiesto Salvini dal palco di Pescara ai suoi elettori cittadini italiani e poi i sondaggi quanto vale Matteo da solo è l'articolo di Sergio Rizzo lega che è data insomma in una forchetta tra il 36 e il 38 e mezzo per cento ciao ciao Di Maio il favorito è Conte è l'altro articolo che analizza il momento politico che sta attraversando l'Italia andiamo sulla stampa la crisi fa crollare piazza affari Salvini teme una trappola PD 5 Stelle il leader leghista chiede di fare presto ma i grillini frenano voci di contatti tra Renziani in movimento Milano brucia 15 miliardi in una seduta l'agenzia Fitch conferma il rating triple B dell'Italia i rischi per l'economia non aiuta a giocare col deficit dice Carlo Cottarelli ex commissario per la spending review e anche premier impectore lo ricorderete nel convulso momento in cui si stava formando il governo che poi si stavano formando le alleanze che poi hanno portato al governo giallo verde le interviste molinari della Lega dice conseguenze gravi se non si va al voto Patuelli dell'ABI l'associazione delle banche italiane così l'aumento dell'IVA diventa inevitabile cioè il grande tema infatti della manovra economica di chi dovrà stilarla e dei tempi per farlo andiamo a vedere sul sole 24 ore Salvini sfiducia Conte mercati K.O. crisi di governo fra lunedì e martedì saranno fissati i tempi alle camere il premier aprirà il dibattito forti perdite per i titoli bancari l'asta dei bot collocati 6 miliardi e mezzo con rendimenti in salita la giornata finanziaria la vediamo riassunta in questa grafica la valutazione di Fitch che conferma il rating la previsione però è negativa come vi ho detto in precedenza lo spread vola oltre quota 240 tonfo in borsa listino giù del 2 e mezzo per cento con pesanti dunque ripercussioni sui mercati l'aumento dell'iva il focus sul fisco costerà 541 euro in più per ogni famiglia perché l'aliquota potrebbe passare dal 22% attuale al 25 2% quella ridotta dovrebbe salire al 13 questo per le famose clausole di salvaguardia che scattano in automatico se non diciamo si trovano le risorse per bloccare questi aumenti le partite in sospeso che lascia il governo ex ilva a rischio la tutela a tempo la scuola sono 54.000 i precari sul filo poi il trasporto ferroviario treni veloci Italo annuncia 300 assunzioni per quanto riguarda il trasporto su ferro ancora il sole aziende chimiche in stagnazione secondo le stime del 2019 la produzione si fermerà a un modesto più 0,3% andiamo sul fatto quotidiano nasce il nuovo bipolarismo l'Italia fra Conte e Salvini il premier sempre più popolare il leghista insultato sui suoi social fa il duce pieni poteri il movimento 5 stelle si ricompatta PD diviso sull'idea renziana due incontri premier vice guardami in faccia di notte non dormo e poi ultima svolta di Renzi l'altro Matteo vuole governare con i 5 stelle tornare alle urne è uno strumento di igiene politica scrive Antonio Padellaro vedremo che cosa accadrà e poi di spalla effetto lega torna l'incertezza spread su borse giù e 23 miliardi da trovare subito per chi non parte l'estate in città cosa c'è da vedere tema di alleggerimento diciamo rispetto ai problemi attuali in Toscana 37 casi delfini muoiono di morbillo indeboliti da oli ed idrocarburi e poi tornando invece sulla politica i commenti l'estate folle di Capitan Poltronissima il bestiario balneare della politica sono i due commenti che trovate sul Fatto Quotidiano andiamo adesso sul manifesto il titolo è a noi con questa foto di Salvini chiede pieni poteri al popolo la lega intanto presenta la sua mozione di sfiducia a Conte lunedì al senato si decidono i tempi della crisi voto il 19 e il 20 di agosto poi il colle potrebbe nominare un governo di transizione elettorale che allontani il leghista dal viminale ma circolano voci di altre manovre come una proposta indecente di Renzi e Di Maio Salvini strilla all'inciucio Zingaretti lo scopre sui media e giura non ci credo adesso avvenire una crisi aperta il titolo che apre il giornale sembrano alluncarsi i tempi per il voto sul governo e sono diverse le ipotesi di soluzione la lega deposita la mozione di sfiducia a Conte lunedì il senato decide i tempi segnali incrociati tra 5 stelle e PD il Quirinale in attesa lo spread intanto si riaccende scenari e percorsi voto probabile non scontato c'è il nodo del ministero dell'interno e poi andiamo a vedere ancora sui giornali nazionali le altre reazioni a quello che sta accadendo le altre notizie battaglia sulla data delle elezioni e l'apertura del messaggero la lega presenta la mozione di sfiducia a Conte del PD prima quella anti Salvini ipotesi voto a fine ottobre i dubbi del premier sulle dimissioni per evitare la Conte in aula Di Maio commissariato tra virgolette dal movimento lotteria elettorale la parabola dei leader e i giochi aperti e l'articolo di Luca Ricolfi l'attesa del colle Renziani e Grillini grandi manovre per evitare le urne poi il tema tutt'altro che secondario dell'economia Piazza Affari brucia 15 miliardi torna il rischio Italia crolla la borsa lo spread vola 238 rating invariato la conferma di Fitch poi ancora Diabolic la questura viete i funerali pubblici la rabbia dei parenti il provvedimento per evitare una cerimonia in stile Casamonica in un video il killer in fuga dunque funerali in forma privati a porte chiuse per Diabolic al secolo Fabrizio Piscitelli il leader degli ultra della Lazio ucciso mercoledì pomeriggio nel parco degli acquedotti ancora fu nominato premier da Helsin nel 99 ha cambiato la russa Putin da 20 anni solo al comando questo è invece l'approfondimento su quanto accade in Russia andiamo sul tempo già pronto il trappolone a Salvini è il titolo di apertura trame di palazzo Matteo accelera per le urne il guaio però è che tutti gli altri frenano asse segreto PD Forza Italia per fregare il leghista Conte Bis con la scusa del taglio ai parlamentari poi il tempo di Oscioco è sempre molto divertente questo dialogo immaginario fra il presidente merito napolitano e l'attuale presidente della Repubblica Mattarella quindi a Ferragosto te tocca sta qui capito sì è questo il dialogo che ha immaginato il tempo fra i due presidenti della Repubblica il bollettino della crisi di spalla Movimento 5 Stelle e Carroccio si insultano a colpi di Renzi accuse a vicenda di Inciucio passiamo adesso su Libero tutti contro Salvini in il titolo chi ha paura del voto dai grillini a Conte fino al PD gara a prendere tempo e cercare scuse perché il Quirinale spinga le elezioni più in là possibile Matteo sente puzza di bruciato e dice qualcuno sta barando il colle in silenzio Mattarella batta un colpo e dica che fa questo scrive Alessandro Giulio e poi a centropaggia invece la Germania la Merkel sta male la Germania peggio la cancelliera è scoppiata anche l'economia tedesca non non se la passa molto bene andiamo sulla verità il titolo di apertura partono le manovre per fermare Salvini la trappola del governo elettorale i grillini provano a far passare il taglio dei parlamentari che allontanerebbe il voto di mesi gli altri si appellano ai regolamenti per rallentare le procedure poi c'è la richiesta di un esecutivo ad hoc così da togliere a leghiste il posto di ministro dell'interno durante la campagna elettorale sono tutte scuse per non restituire più la parola agli italiani Renzi prova l'ultima perversione l'inciucio con Di Maio e il suo capogruppo Marcucci ci mette il carico prima la mozione di sfiducia al vice premier abbiamo visto le borse giù riecco i forza spread al partito si scrive famiglia cristiana scrive la verità poi chi ha detto no a cosa tav autonomia tasse i veri muri su cui si è rotto tutto l'assiste per i nostri conti la Germania piantata si accorge che forse è l'ora di fare deficit poi il Papa in campo più Unione Europea più Greta zero Lega incredibile intervista di Bergoglio che attacca i sovranisti fanno paura come Hitler esalta la von der Leyen prossimo presidente della Commissione Europea propone la sostituzione etnica e si angoscia per il clima Gesù non pervenuto questo è l'articolo critico sul Vaticano da parte della verità sul secolo il titolo di apertura governeremo cinque anni con la foto di Salvini e Meloni la Meloni spiega al secolo cosa vuole fare l'alleanza con Salvini un programma chiaro le candidature questa è una possibile alleanza tra i partiti cosiddetti sovranisti poi in primo piano Open Amps assedio totale ecco il garante dei detenuti Fico il presidente della Camera ma che grande idea si parla di accordo 5 stelle PD e ancora si vota e rispunta Laura Boldrini noi la vera alternativa andiamo a vedere poi il mattino di Napoli il titolo scontro sulla data del voto abbiamo già visto andiamo a vedere l'approfondimento il caso del secondo mandato la deroga forse al voto su Russo Casaleggio Commissaria Di Maio e i Big 5 Stelle rischiano il posto sapete tutti c'è il tema dei due mandati che il Movimento 5 Stelle impone ai propri militanti come limite massimo per candidarsi per il Morandi solo passerelle ma noi non andiamo i parenti delle vittime di Torre del Greco non vogliamo risarcimenti ma rispetto questo invece l'approfondimento sul primo anniversario della tragedia del Ponte Morandi di Genova andiamo sullo sport adesso la gazzetta dello sport apre così l'Inter va a 200 Conte avrà anche Zeko e non finisce qui mercato boom con i 20 milioni per il bosniaco sfiorerà i 200 spesi per sfidare la Juve la campagna acquisti più cara della storia del club per accontentare il tecnico se verranno ceduti i Cardi Perisic e altri esuberi ci sarà spazio per un ultimo colpo a centrocampo Inter davvero scatenata sul mercato nel taglio alto Cairo Messi non è in vendita difficile rinforzare questo toro il presidente Granata tra goleade d'Europa ironia e la voglia di migliorare la rosa ancora otto volte Italia Spagna e c'è Di Bala in vetrina calcio d'estate Inter a Valencia con Lautaro Napoli col Barça a Detroit niente guerra e Sarri con Buca Paolo in Juve Atletico il Paris Saint-Germain sta alla finestra dipende dall'affare Neymar nel taglio basso il Milan scopre Leao in Kosovo a Pristina 20 e 45 in campo anche Krunic con non convocati che sì Duarte e Reina test con i campioni del Ferronecheli con debutto dell'attaccante portoghese ci spostiamo sul corriere dello sport Aurelio Prendici sembra l'invocazione lanciata da Icardi e Vandanara Vanda si offre a Napoli la Roma ci prova e la Juve lavora nell'ombra svolta Morito la moglie lo spinge verso Ancelotti ora tocca De Laurenti Spallotto offre 30 milioni e Zeco ma Marotta chiede di più e Paratici aspetta che Di Bala prenda una decisione Poi l'Inter Lukaku esalta Conte l'attaccante belga abbraccia il nuovo tecnico che lo ha fortemente voluto e il migliore del mondo è inciso nella mia scelta stasera Inter a Valencia Biglietti vietati il dietrofront della Juve per il caso nati in Campania che non potevano acquistare i biglietti in realtà solo per i residenti in Campania c'è stato un cambio di parere poi Liverpool esordio boom con la foto di Salah andiamo su tutto sport adesso parla Sarri è il titolo che apre il giornale stamane a Stoccolma il tecnico avrà un vertice di mercato con Paratici poi alle 18 diretta su Sport Italia la Juve sfiderà l'atletico per dare risposte importanti nell'ultimo test di alto livello prima dell'avvio ufficiale della stagione poi scurte il colpo della Dea con l'Atalanta dunque che mette a segno un colpo di mercato nel taglio alto Vanda mette fretta la Juve per i Cardi Cairo grande toro preparo tre acquisti nel mercato Granata nel taglio basso il volley l'Italia parte bene ora c'è l'Australia 3 a 0 al Camerun nel preolimpico per il ciclismo prova in linea under 23 paterno ster oro europeo pater sì paterno ster andiamo sul quotidiano sportivo chiudiamo la rassegna dei titoli di sport nazionali l'ultimo schiaffo l'Inter da Lucaco la maglia con il 9 per i Cardi la conferma che la porta è chiusa e quel numero ha un valore speciale dietro front Juve biglietti ai nati in campagna poi per la MotoGP c'è Lorenzo per la Ducati ufficiale ci fermiamo per il break pubblicitario prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra Rassegna Stampa di nuovo insieme per la seconda parte della nostra Rassegna Stampa ripartiamo dalle pagine interne dei quotidiani abruzzesi nel primo piano del centro la politica regionale trema anche la giunta Marsiglio prima verifica dopo soli sei mesi prova di forza della Lega Bellachioma ha dichiarato siamo il primo partito di governo serve incisività Febbo prova a smorzare le polemiche dicendo che solo un chiarimento tra alleati Paolucci attacca litigano per le poltrone completiamo questa pagina reddito di cittadinanza Fioretti a settembre primi colloqui e poi a Blasioli e Blasioli lancia l'allarme sui CUP con un'interpellanza in consiglio regionale andiamo sulla pagina Abruzzo del messaggero regione la crisi d'agosto Marsiglio amarezza per le critiche lunedì la verifica la Lega galvanizzata da Salvini si prepara all'appuntamento posizione all'attacco giunta senza guida è grave dice Legnini andiamo a vedere insieme il servizio che fa il punto sul momento politico attuale poi continuiamo con la nostra rassegna non apriamo una crisi ufficiale perché non ci sono le motivazioni però ci sono le motivazioni perché come abbiamo detto prima è necessario fare prima una verifica chiamiamola così sui programmi e su quello che sarà il governo regionale da qui in avanti nel contempo per dare un segnale che comunque sia siamo perfettamente consapevoli di quello che diciamo di quello che facciamo i nostri assessori non parteciperanno più raggiunto fin quando questa verifica non sarà fatta la verifica ci sarà con il tavolo convocato in gran fretta lunedì mattina lo ha assicurato il presidente della regione Marco Marsilio che ieri sera ha voluto porre così un argine alla frana smossa dalle dichiarazioni dei vertici regionali della Lega che indispettiti dalle nomine dei direttori generali delle Asle e dalla poca chiarezza su alcuni punti programmatici molto cari alla Lega a partire dalla questione delle autonomie differenziate hanno minacciato di non far partecipare alle riunioni di giunta i loro assessori forte dei risultati elettorali e dei sondaggi quindi la Lega passa all'incasso dettando l'agenda regionale e aprendo una crisi di ferragosto che potrebbe nascondere problemi più profondi con un amore mai sbocciato tra Marsilio e i vertici della Lega stessa a difesa del presidente della regione però si è elevato il suo partito Fratelli d'Italia con il coordinatore regionale Sigismondi che si è detto stupito oltre che amareggiato per critiche ingenerose che cercano di sminuire il ruolo e le prerogative del presidente nonché l'enorme lavoro svolto dall'intera coalizione a difesa del lavoro della giunta si è schierato anche l'assessore regionale forzista Mauro Febo ogni volta che il centrodestra dialoga e si confronta si parla di quando succede nel centrosinistra c'è un confronto democratico un dibattito ma quando lo facciamo noi sembra che non è successo niente si sta dialogando si sta diciamo ci sono punti di vista all'interno dell'amministrazione su cui c'è bisogno di confronto non mi sembra che ci sia nulla di eccezionale nessuna crisi in vista essessero tranquilli gli amici del PD e del Cinque Stelle il centrodestra va avanti il governo sa governare molto bene nell'opposizione il Movimento Cinque Stelle con Sara Marcozzi parla di un teatrino che fa emergere uno strappo palese all'interno della maggioranza e attacca il fatto che il primo azionista della maggioranza non partecipi alle sedute della giunta è una decisione di una gravità assoluta che immobilizzerà il lavoro di un centrodestra che già adesso va a rilento di grave immobilismo parla anche il PD con il capogruppo Polucci l'ex presidente di regione oggi senatore Luciano D'Alfonso 6 marzo 2019 nasce la giunta Marsilio 6 agosto 2019 si ferma la giunta Marsilio 5 mesi dalla giunta lenta alla giunta ferma si sono arenati su tutto in queste settimane sui trasporti il prezzo che arriva fino a un aumento dell'88% dei treni la questione dell'incertezza legata alle autostrade la legge impugnata dei trabocchi la programmazione dei trasporti sotto scacco dalla sentenza del tar nessuna legge la debolezza della programmazione sanitaria che si ferma di fronte allo scoglio del tavolo del monitoraggio e gli dicono siete rimandati e ripassate a fine anno rispetto ai veri problemi in realtà questa giunta in questi mesi non ha fatto che litigare sulle poltrone che poltrone parliamo di quelle della sanità per le quali c'è stato uno scontro tra Marsilio Biondi gli assessori Aquilani Fratelli d'Italia e la Lega ma io ho giudicato e fotografato che il presidente attuale è un presidente con il foglio rosa e mi sono anche impegnato a dargli il tempo per fare in modo che si trasformasse in foglio rosa in patente definitiva nei fatti vedo una difficoltà a prendere il cammino un po' per le straneità rispetto ai problemi della regione e anche perché forse si è accorto che le questioni da affrontare sono più impegnative di quelle che immaginava avere fatto più uno durante la competizione elettorale attraverso le urne non significa poi avere stabilità e capacità di governare Adesso andiamo avanti nella pagina Abruzzo del centro troviamo la questione autonomia differenziata il PD dall'Abruzzo parte la carica anti-secessione i DEM annunciano battaglia contro la proposta della Lega FINA vogliamo fare la riforma per il Nord con i voti del Sud su questo tema andiamo a vedere anche il messaggero prima di sentire proprio le parole di FINA no del PD all'autonomia differenziata e peggio della secessione di Bossi possiamo vedere il servizio segretario autonomia differenziata il PD non è d'accordo parla di pericoli reali per la nostra legione quali in particolare? il taglio di milioni e milioni di trasferimento ieri è iniziata la campagna elettorale il ministro De Sad come lo chiamo il ministro Sadico l'ha voluta aprire proprio in Abruzzo venendoci a dire due cose molto significative questo governo cade per i no alla ricerca del petrolio e l'ha detto in Abruzzo la regione di Ombrina quindi esattamente ha voluto dire c'è bisogno di tornare indietro e non di andare avanti di fare cose che per l'ambiente significano caos climatico casino climatico che è la ragione delle migrazioni che vanno bene se sono un set cinematografico messo alla costa italiana imprigionando 50 persone ma non sono un tema se poi invece si generano il fenomeno migratorio guerre, povertà e cambiamenti climatici e poi autonomia differenziata ha cominciato questo tour per spiegare al sud come suicidarsi quindi solo cose negative secondo voi potrebbe portare l'autonomia differenziata o anche c'è qualcosa di positivo? No, noi siamo la sinistra in Italia dalla costituente in poi è il partito delle autonomie del rispetto dei territori ma la parola autonomia la parola autonomia è il contrario della parola secessione perché prevede un'unità nella quale ogni parte svolge una sua funzione quindi che si debba riordinare lo Stato e che si possano prevedere alcune competenze nel territorio alcune competenze riportarle al centro questo va benissimo ma non stiamo parlando di questo stiamo parlando di un'aggressione che il presidente del Veneto e il presidente della Lombardia hanno fatto al governo e al presidente Conte perché vogliono rispettare quello che loro hanno approvato nel loro referendum che è una sola cosa al di là delle competenze cioè mantenere il 90% delle risorse fiscali al nord il che significa un aumento dell'emigrazione da parte del sud un impoverimento del meridione e quindi la secessione nei fatti hanno cambiato nome esattamente come non si chiamano più Lega Nord si chiamano Lega Nazionale ma restano Lega Nord non parlano più di secessione la chiamano autonomia differenziata ma è secessione adesso proseguiamo con le pagine di Pescara la notte di San Lorenzo in primo piano stasera negozi aperti in centro stop le auto in corso vittorio shopping mercatini e spettacoli musicali in tutte le strade del quadrilatero centrale fino a tardanotte divieti di transito e di sosta in vigore a partire dalle 15.30 parcheggi gratis nell'area di risulta dalle ore 18 andiamo avanti il Pescara torna in campo vietate bottiglie lattine scattano le misure di sicurezza per l'incontro di Coppa Italia di domani sera contro il Manto vai con l'elenco delle strade chiuse attorno allo stadio e poi Mascia al posto del mercato etnico un museo del treno questa è la proposta per il tunnel sotto la stazione centrale andiamo a vedere la pagina di Pescara anche sul messaggero sgomberato il bivacco dei disperati la polizia municipale e i carabinieri in forze tra gli scheletri di cemento dei palazzi clerico ritrovo dei tossicodipendenti identificati una decina di disperati presenti bene dice il comitato di quartiere ma va debellata la centrale dello spaccio poi ancora le altre notizie l'inferno di Rancitelli devasta case fugge arrestato per evasione a Fontanelle alloggi sotto i portici per inquilini disabili nella pagina successiva la notte di San Lorenzo dai saldi alle stelle nel cuore della città cremonese dice rilanciamo un settore vitale per Pescara le altre notizie nel taglio basso così la plastica uccide il mare guardia costiera in campo manifestazione sulla spiaggia per spiegare gli effetti dell'inquinamento sulla fauna ittica e poi dall'area metropolitana malformazione fatale per Lorenzo l'autopsia sul corpo delle 15enne morto giovedì mentre giocava a calcetto a Francavilla svela le cause del marone nessuna responsabilità penale per la procura gli impianti sportivi e amatoriali non hanno l'obbligo del defibrillatore torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere il dramma a Castiglione caduto dal ponte ritrovato il cadavere era bloccato da una barriera di tronchi i vigili del fuoco lo hanno individuato e poi recuperato con l'elicottero la scomparsa di Maurizio Claps risale a mercoledì quando ha lasciato l'auto non lontano dall'abbazia ai funerali a Taranto la sua città d'origine il dolore della Croce Rossa e noi andiamo a vedere insieme il servizio è stato recuperato in uno sbarramento naturale di tronchi del fiume Pescara il corpo senza vita di Maurizio Claps 45enne di Lanciano al terzo giorno di ricerche i sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato impigliato in un'ansa del fiume Pescara a circa 100 metri dal ponte San Clemente a Castiglione a Casauria dove un passante lo aveva notato camminare poi scavalcare il parapetto del ponte mercoledì scorso e quindi sparire alla vista la salma è stata recuperata con un elicottero e trasferita all'obitorio dell'ospedale di Popoli dove è stata eseguita la ricognizione cadaverica l'uomo sarebbe morto a seguito dei politraumi da caduta riportati nell'impatto con il greto del fiume poi la corrente ha fatto il resto trascinando il corpo a valle per circa 100 metri le operazioni di soccorso alle quali hanno contribuito decine di uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco sono state molto difficili per via della zona impervia e della presenza di arbusti nel fiume oltre alla grande portata d'acqua Claps originario di Taranto operatore del 118 in servizio all'asla di Pescara era molto conosciuto a Lanciano anche tra i tifosi della squadra di calcio cittadina il suo estremo gesto compiuto forse per una delusione d'amore la salma è stata restituita ai familiari il vertice su Caramanico ancora dal centro term ecco il piano di rilancio più servizi e stagione prolungata l'assessore Febbo incontra società e sindacati quest'anno niente stop e nel 2020 riaprirà la reserve si attende il via libera da Roma per consentire l'erogazione di altre prestazioni a carico della regione museo delle genti il presidente si dimette lasciano Marzetti e il vice d'Aquino gesto di rispetto per consentire al comune nuove scelte Via Tavo allontanati disperati Masci area da risanare in 12 mesi abbiamo già visto quello che è successo a Pescara e poi generazione anni 90 ecco gli amici del meeting la palestra come un salotto a Montesilvano shopping in città notte blu un successo commercianti soddisfatti centro cittadino invaso dalla folla per i negozi aperti fino alle 2 le animazioni ora il comune faccia la sua manifestazione in arrivo anche il grattevinci scontro in Via Lazio auto si ribalta davanti all'albergo e poi tangenziale appello all'anas sporcizia e vegetazione incolta gli automobilisti denunciano il degrado della circonvallazione dell'asse a Montesilvano e dicono occorre più manutenzione torniamo sulla tragedia a Francavilla i medici fatto il possibile per Lorenzo un'ora e mezza di tentativi a Villanesi e poi all'ospedale di Chieti per rianimare il 15enne morto mentre giocava a calcetto gli accertamenti hanno rilevato sul ragazzo la presenza di una marformazione coronarica i funerali si svolgeranno domani alle 16 a Chieti nella chiesa della Santissima Trinità chi era la vittima fatale la sua passione per il pallone Lorenzo aveva problemi cardiaci doveva sottoporsi a nuovi esami nella pagina della Val Pescara popoli storie e tradizioni domani torna il certame poi schianto automoto in ospedale anche un bimbo di 7 anni passiamo alla pagina di Chieti doppia pagina che riguarda il no al concerto di Giovanotti eccola qui cancellato l'evento Giovanotti salta il concerto il caso in procura e alla Corte dei Conti tutti i motivi che hanno spinto il Comitato Provinciale per la Sicurezza a bocciare il progetto i carabinieri al PM e gli atti del comune potrebbero emergere profili penalmente rilevanti poi ancora blizzi di forestali e servizio veterinario della ASL moria di pesce a fosso marino prelievi per le analisi la stazione ornitologica abruzzese dice la presenza di giovani anguille è testimonia l'importanza di questi piccoli fossi per alcune specie ittiche e poi l'amarezza di Giovanotti perduto un'occasione di festa con un lungo post su Facebook ha commentato la decisione attaccando anche le istituzioni abruzzesi e poi la reazione accuse solidarietà menna contro di me un clima di guerra il sindaco io pronto a collaborare ma non ho trovato disponibilità al dialogo vado avanti per la città tra poco ascolteremo proprio il sindaco di Vasto andiamo a vedere la pagina di Chieti proprio sul Giova Beach Party eccola qui Vasto dice addio al Giova Beach Party confermate le troppe carenze nel piano di sicurezza la commissione per i pubblici spettacoli boccia l'evento furibondo il sindaco menna quanto odio contro la città dice puntando il dito contro il senatore 5 stelle Castaldi Giovanotti amareggiato ha vinto il fronte del no questa la reazione dell'artista che noi noi adesso andiamo a vedere invece la conferenza stampa che c'è stata ieri pomeriggio nel comune di Vasto e le parole del sindaco menna ma questo annullamento è ha qualcosa indubbiamente di politico che viene che va a nutrire la politica delle opposizioni che non hanno voluto questo concerto che non vogliono questo concerto va a far male a una città a una regione a una provincia un galantuomo di altri tempi un gentiluomo come Maurizio Salvatore che il manager di Giovanotti ha dichiarato non vengo più a proporre un evento in provincia di Chieti vado nelle province dove c'è collaborazione ringrazio il sindaco di Vasto e gli uffici comunali che si sono spesi come non mai ma queste persone devono sapere che queste persone che hanno generato il fronte del no devono sapere che stanno facendo male a una città a una regione hanno creato generato lesioni ma noi sappiamo bene che le lesioni si vanno a risanare e siamo pronti a rialzarci per rifare per osare per rinascere per rigenerare eventi io sono il sindaco degli eventi sono il sindaco che ha fatto più eventi in questa città sono il sindaco delle notti bianche delle notti rose dei concerti delle proroghe delle autorizzazioni di un rinato palazzo d'Avalos della cultura insomma di tutto ciò che si può fare io lo faccio ogni risorsa che posso mettere in manifestazioni che attirano io lo faccio ho scommesso su un evento che andava oltre che va oltre un evento bellissimo che è stato autorizzato in ogni dove che qui ha trovato tanta 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 ostilità a Chieti comune in crisi l'accordo non si trova leggiamo dal quotidiano il centro Forza Italia basta torniamo al voto le deleghe dell'assessore di Biase ancora al centro della polemica di Primio stanno facendo un gioco al rialzo stesso argomento anche sul messaggero Forza Italia rompe cala il sipario sul sindaco di Primio l'ipotesi di scambio delle deleghe di Biase viola bocciata dagli azzurri che lunedì non saranno in aula per votare il bilancio la prima convocazione infatti è per il 12 la seconda per il 13 termine ultimo per cercare un accordo a questo punto molto complicato l'ipotesi per la sostituzione dell'assessore al commercio respinta in serata dopo il via libera di Fratelli d'Italia il tema dell'amianto nella sede tua di Chieti la proprietà accusa la bonifica è efficace la perizia esclude la presenza di materiale Gallucci replica al presidente Giuliente andiamo avanti sempre sul messaggero a 14 più vicino a Lanciano grazie alla nuova bretella inaugurato ieri il collegamento da via Bergamo al tratto finale dell'area artigianale di Villa Martelli l'assessore Verna opera importante che valorizza il territorio torniamo sul quotidiano il centro andiamo nelle pagine di Teramo eccole qui incidente a Mosciano cade con la moto grave Giovane Rosetano un 24enne colpisce un palo della segnaletica finisce sull'asfalto e poi urta una macchina ricoverato in rianimazione a Cermignano Mariano e Cocaine in casa arrestato un disoccupato e poi in tanti alla notte dello shopping nel centro storico di Teramo ad Atri di Scarica il Consiglio dice no il percolato finirà nel Piomba seduta di ieri a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei comuni di Silvio e Pineto amministratori ambientalisti e comitati civici contrari Centorame il piano regionale rifiuti va rivisto e poi a Silvi lunedì sarà inaugurato il nuovo pontile galleggiante prima di passare alle pagine dell'Aquila sul centro andiamo quelle terramane del messaggero Ponte senza segnali schianto assessore indagato per lesioni Valdo di Bonaventura ho ricevuto un avviso di garanzia voglio spiegare auto contro il parapetto pericoloso passeggia scusate passeggera ferita gravemente alla gamba poi nel taglio basso Mosciano terzo incidente grave un ragazzo di 24 anni Giovanni di Roseto ha perso il controllo della moto ed è finito contro la rotonda e una BMW ricoverato in rianimazione una donna al comando del comune la giunta Costantina è diviso in municipio in quattro settori saranno tutti coordinati dalla segretaria Raffaella De Gidio a Pirocchi resterà la sola area economico-finanziaria Sisino potrebbe diventare dirigente in attesa del concorso questo accade a Giulianova poi camion si ribalta sulla provinciale carburante sull'asfalto e traffico in Tilt a Valle Castellana andiamo sulla città per proseguire le notizie dal Terramano Valdo indagato per il botto al ponte stretto all'assessore notificato un avviso di garanzia abbiamo visto il caso per lo schianto del 29 marzo 2019 in cui una matiz è andata a finire contro il ponticello di via Cavalieri di Vittorio Veneto e leso il conducente ferita la passeggera la discarica la torre è aperta la procedura per smaltire il percolato l'importo stimato è di 1,3 milioni di euro andiamo avanti il PD chiede chiarezza sulle gare dei quattro cup Blasioli preoccupato per il servizio ai lavoratori presenta un'interpellanza scatta la fase 2 per 3.887 redditi di cittadinanza gli 11 navigator in formazione da settembre inizieranno a contattare i terramani Soget Futuro In fa l'elenco delle violazioni il gruppo d'opposizione replica la società e al sindaco sulle cartelle l'arrivo nelle case dei terramani la sicurezza più controlli sulla movida del Ferragosto direttiva del prefetto ai sindaci e alle forze di polizia andiamo avanti l'arta promuove il mare della Val Vibrata valori dei batteri fecali prossimi allo zero nei campionamenti fatti a Tortoreto Alba e Martinsicuro pagina successiva con l'incidente l'abbiamo visto cade in moto e viene colpito da un'auto davanti alla rotonda della Madori a Mosciano e poi ancora scintille sulla mostra dei vini a Roseto Pavone attacca su presente disservizio Aloisi migliorata rispetto al passato la discarica di Santa Lucia esempio virtuoso per la regione questo dice il commissario del consorzio non verranno conferiti rifiuti inquinanti nessun rischio ambientale per quanto riguarda la discarica di Atri e questo è quanto accaduto nel consiglio comunale straordinario di ieri che però ha bocciato ogni ipotesi dicendo il suo no adesso torniamo sul quotidiano il centro andiamo nelle pagine dell'Aquila emergenza sicurezza le nuove indagini baby gang in azione anche al piano case altre bande raggi X dopo gli arresti dei giorni scorsi accese di preturo crolla un altro balcone l'episodio è segnalato da un cittadino su Facebook la tragedia mondo scientifico in lutto muore a 30 anni ricercatore del Gran Sasso Science Institute e poi incidente a Paganica si spegne dopo 4 giorni di agonia non ce l'ha fatta l'84enne coinvolto nello schieno spianto andiamo a vedere adesso le pagine dell'Aquila sul messaggero andiamo a recuperare eccole qui comune rischio voto anticipato Biondi e Deramo verso Roma la crisi nazionale potrebbe avere ripercussioni il deputato della Lega non sarà candidato sindaco il primo cittadino tentato dal posto in Parlamento il centro-sinistra al Bivio Pezzopane o Palombo grandi manovre in municipio l'accelerazione della Lega potrebbe produrre degli effetti poi attraversi la giungla e poi riesci a trovare i tuoi cari l'incredibile situazione al cimitero monumentale determinata dalla mancanza ormai cronica di giardinieri andiamo nella pagina successiva no al taglio degli alberi presidio notturno ad Avezzano per i lavori in piazza del mercato siamo così arrivati alle pagine dello sport e allora andiamo a vedere lo sport sul messaggero eccolo qui Pescara mercato in pausa riflessione la società riflette sugli ultimi colpi da fare in attesa di notizie precise da Bergamo su Tabì Zauri aspetto in centrale una mezzala un terzino sinistro e due esterni offensivi poi per quanto riguarda le notizie arbitri le nuove regole varranno anche in Serie B Rapuano di Rimini designato per la gara con il Mantova da ieri Bunino passato al Padova su questa pagina nel taglio basso beach europei un po' di fortuna per Lupo e Nicolai volano ai quarti per l'infortunio dei Lettoni Fuzzaldonne Aldo Di Pietro nuovo allenatore del Montesilvano è un grande onore la chiamata del Dream Team andiamo adesso nelle pagine di sport sul quotidiano il centro il mercato del Pescara tentativo di Gaudio ma la rosa va sfoltita sono 38 i calciatori sotto contratto ecco chi può andare via trovate tutto sul giornale sondaggio con il Verona per l'ala l'operazione si farà soltanto se l'Ellas contribuirà al pagamento dell'ingaggio da 500 mila euro il caso Marras da esempio per i compagni a Esubero la parabola dell'esterno d'attacco titolare fisso con Pillon domenica escluso dai convocati a Pineto cambiamo pagina adesso passiamo alla Serie C il Teramo è senza stadio debutto in campo neutro domani la Coppa Italia a Fano tempi più lunghi per i lavori al Bonolis i biancorossi potrebbero giocare la prima di campionato con la Sicula Leonzo a Rieti Iachini richiama in società Cerulli i rally in Serie D in Serie D girone fatto materiche campo basso favoriti gli abruzzesi nel gruppamento F senza il Foggia Chieti via Eslamai e Lonoce Giuliano va su Fedi andiamo a vedere anche la pagina dedicata alla Serie C alla Serie D sul messaggero Teramo senza stadio si giocherà a Rieti Iachini non ci sono buoni segnali per il restining del Bonolis voglio essere sicuro in Coppa a Gubbio entrano Montani Cerulli i rally e Dorazio mi aspetto abbonamenti queste le parole del presidente del Teramo in Serie D il Pineto evita il Foggia l'ammazza campionato la novità sarà l'Atletico Fiuggi di Beppe Incocciati poi le sei abruzzesi ancora tutte insieme Vastese Giulianova Pineto Notare Scocchieti Avezzano soddisfatte il basket nel taglio basso Cimorosi Campitelli si innamorerà di Roseto c'è entusiasmo in città dopo l'annuncio del main sponsor Sapori Veri Avezzano prima in casa Paganica invece a Roma questo per quanto riguarda il calendario del rugby di B torniamo anzi no andiamo sulla città per vedere insieme la pagina che riguarda lo sport Teramo esordio in casa con la sicula a Rieti Iachini ci sono dei ritardi nei lavori del Bonolis da lunedì la squadra torna in città passaggio nella gestione ufficializzato il passaggio della gestione dello stadio alla Infosat domani sera l'esordio in Coppa Italia contro il Fano mercato i biancorossi hanno chiesto Magnaghi al Pordenone per quanto riguarda il basket Giulianova Shaquille Hidalgo si veste di giallo rosso colpo in entrata all'esterno italo-domenicano chiamato a dare imprevedibilità al gioco di coach Ciocca andiamo a vedere adesso e completare le altre pagine di sport sul quotidiano il centro doppia pagina che riguarda il Francavilla con una marcord di quanto accadde nel 1984 Francavilla al Meazza che notte prima la bisfiorata poi la sfida di Coppa con i fischi a Nobili per un fallo su Rummenighe partita che finì 3-1 per l'Inter e poi il sogno europeo continua Lupo e Nicolai ai quarti abbiamo già visto il beach volley a Mosca svolte di popoli si entra nel vivo oggi le prove ufficiali domani la crono scalata nel taglio alto a Dublino la prima del Terraman sono Riccioni nell'Ital Rugby e nel taglio basso Olimpiadi Sfumate Iezzi punta agli europei tira a volo la tetina non partirà per Tokyo 2020 ci fermiamo con la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina mattino 6 tornerà lunedì alle ore 8 la nostra informazione oggi come sempre alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 vi auguro una buona giornata e buon fine settimana e buon fine settimana